Promuovere la bontà, la qualità e l'autenticità di prodotti artigianali è l'obiettivo del caseificio Ferrero Fulvio. Attraverso la collaborazione con Simple Agency, la storica azienda casearia piemontese intraprende un percorso di digitalizzazione. Apertura e gestione delle pagine social, un nuovo sito ed un video corporate rappresentativo dei valori e dei pregi del caseificio. Questi sono gli step designati per la realizzazione della campagna. L'artigianalità e la produzione di alta qualità sono il centro dello storytelling ideato da Simple per la realizzazione dei contenuti. Shooting fotografici trimestrali e riprese video seguono un'estetica precisa che racconta l'arte casearia e proietta i sapori dei prodotti online. Il video corporate inoltre trasmette l'essenza dell'azienda raccontando la storia e la natura dei prodotti. Il piano di pubblicazione è studiato per avere un forte impatto, ad ogni stagione sono destinati contenuti ad hoc. Inoltre non sono promossi solo i prodotti. Attraverso rubriche quali ricette, taglieri, gelati e lifestyle l'azienda viene rappresentata a tutto tondo, suscitando interesse, interazione ed un rapporto attivo con le pagine. Il caseificio Ferrero Fulvio continua ad evolversi e a crescere e noi, al suo fianco, continueremo a raccontare una meravigliosa storia di artigianalità italiana. Make it great, make it simple.